ed eccoci siamo di nuovo insieme seconda parte del nostro appuntamento della sera subito brevissimamente il nostro indirizzo di posta per restare sempre in contatto con la nostra redazione basta inviare una mail ad angoli chiocciola espansione tv punto it e ve l'avevo detto è tutta un'altra storia guardate non importa cosa deve fare l'importante è arrivare primo dal macellaio dal prestinaio dai sindacati in banca in discarica al mercato a messa in comune a votare alle poste deve arrivare primo prima di tutti gli altri il prestinaio apre alle 7 e lui è lì alle 7 meno un quarto la banca apre alle 8 e io vado lì 8 meno un quarto primo dei primi prima fila appena aprono le porte lui tacca già dentro orgoglioso via bisogna levarsi il pensiero non è semplicemente una commissione da fare è un'ansia da eliminare poi un giorno il brienzolo va in pensione e dice ha tutto il tempo per godersi la vita gli attimi le pause il silenzio la lentezza e neanche per sogno pur da pensione deve arrivare primo e il fatto che lui sia in pensione gli permette di non avere altre cose da fare quindi può arrivare ancora più primo di prima di tutti gli altri e la sua giornata inizia con una bella battaglia dal medico di base per gli esami del sangue primo e chi arriva dopo è un asino quando lui esce che ha già fatto e vede gli altri in coda li guarda pivelli pirloni e io ho già fatto io ero quel quarto d'ora prima che aprisse vai 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 in coda va a casa tutto bello contento gli ha fregati tutti e quindi e quindi il brianzolo passa la vita a correre perché per lui la vita è una gara e deve arrivare primo e se le porte del paradiso aprono le sette dove arriva le sei non si sa mai che c'è qualche problemino c'è coda doveva essere il primo a parlare con dio primo dei primi e chi arriva dopo è un asino ma io lo amo è lui corrado dugo ciao corrado grazie per essere qui io rido ininterrottamente quando vedo questo tuo video tra l'altro lo ricordiamo e tu sei un videomaker e anche un youtuber quindi insomma sei molto social hai tra l'altro un passato televisivo insomma di grande competenza che ti ha portato a fare questa cosa meravigliosa ma come mai questo brianzolo ti sta così insomma al centro dell'attenzione beh sono nato a erba ho avuto una parentesi milanese e poi sono tornato e chi avevo intorno se non i brianzoli a erba alta brianza e mi divertivo mi ha sempre divertito osservare i comportamenti degli esseri umani e guardare a seconda della provenienza il brianzolo il siciliano l'italiano l'inglese il milanese e allora con questo accento il milanese invece il brianzolo è più osti è aggressivo un accento beh l'ho chiuso se vuoi il milanese ha una cantilena un po radical chic però è più morbida e quindi e quindi e quindi avevo intorno i brianzoli e sono partito da lì e da lì sono rimasto lì sono rimasto lì sei rimasto affascinato tanto affascinato che hai scritto pure un libro che è con te ho scritto dopo un anno e mezzo non lo so è un po la raccolta di tutti di tutto quello che ho raccontato nei video quindi comportamenti manie pregi difetti lo raccoglio raccolti in dieci comandamenti mi piace pensare questa sia la bibbia del brianzolo quindi un brianzolo non può non averla in casa sotto il cuscino non può non averla e ti dirò poi c'è il giochino di quanto ti ritrovi nel libro io dico sempre se ti ritrovi completamente è grave brianzolo in parte ci sono dei livelli quindi di brianzolo e dentro ogni tanto ho messo anche un po di sicilia perché tutto questo io ho avuto la fortuna il caso voluto che una parte della mia famiglia fosse longobarda da parte di madre e invece la parte di padre nato a erba ma di origini siciliane e avevo due nonne e due nonni e io avevo davanti a me ho avuto per tutta la vita due modi opposti di di vivere concepire la vita quindi come ti sei trovato ti sei confuso ti sei divertito mi sono divertito ho preso in giro tutti e due e forse anch'io mi porto dentro un po di sicilia che uso nel libro per giocare sul contrasto perché noi capiamo meglio chi siamo quando andiamo a conoscere un altro paese un'altra regione allora vedi tutta la differenza per esempio la sicilia l'amore per il cibo per il goderti la vita non significa che non lavorano ma la prima preoccupazione di mia nonna lucia era cosa ti faccio oggi per pranzo e invece mia nonna tra l'altra invece l'altra invece la cucina era pulitissima e sembrava inutilizzata da anni e cucinare un fastidio mi viene da ridere perché penso alla mia famiglia e lì ci stiamo per le appunto io un po più brianza quindi queste cose questi quadri me li ricordo bene ma tu in tutta questa situazione come hai detto ti sei divertito tantissimo e stavi un po in mezzo a queste due cose c'era qualcuno che tira ti tirava un po di più per la giacchetta da una parte che dall'altra beh sì mia madre come forse molte donne brianzole un'educazione costante ricordati che la vita è fatica ecco questo questo bel modo di crescere un figlio guarda che la vita non è bella divertimento è fatica è un po' come quando con la frase ricordati che devi morire ricordati che devi faticare io di carattere devo dire che un po sono una parte siciliana nella amare la narrazione la comunicazione questo qui non è un lavoro per me oggi un lavoro prima lavoravo in televisione e già questo ti fa capire che non sono brianzolo perché il brianzolo è uno che si sveglia e fanai man come dico cioè molto far andare le mani toccare qualcosa comunicazione invece è qualcosa che si avvicina di più a milano a roma a contesti diversi io un po sono siciliano e però gli insegnamenti di mia madre della brianza sono importanti e senti corrado però in questo tuo muoverti tra la televisione la comunicazione le regole della brianza e pian piano avvicinarti verso quel mondo straordinario che è milano hai tirato fuori delle altre considerazioni ce le guardiamo insieme via poi torniamo il pagamento delle tasse io credo che per il brianzolo è proprio il primo fattore di ulcera di malattia se non ci fossero le tasse il brianzolo avrebbe uno sguardo stanco dal lavoro ma sereno felice la pace dentro un buddha se dio chiedesse al brianzolo che cosa desideri dalla vita un equilibrio un silenzio interiore una perenne armonia no mi levi le tasse e sono bello felice tutto quello che guadagno è mio osti che bello ne invece porchi sarà quel pirla che ha inventato le imposte le tasse mi tolgono i miei soldi che ho lavorato io onestamente mi sono fatto un culo per andare dove per andare a roma per andare nelle strade coi punti che cadono giù per andare negli ospedali che ogni volta che devo fare un esame specialista devo andare dal privato a pagare allora quella roba lì che lo stato viene a prendere i soldi e metterli dove la ridistribuzione del reddito più lavori più fatturi più guadagni più devo pagare questo sarebbe la riddizione un altro genio questo qua della ridistribuzione che solo piglio è peggio della morte la morte arriva una volta sola le tasse arrivano tutti gli anni arrivano quando sei vivo o osti qual'è il problema e quindi e quindi per il brianzolo il paradiso non è un luogo dove non si fa nulla un luogo dove si lavora e dove il fatturato non è mai tassato volazza in cielo qui lì c'è insomma ma non si possono trattenere le risate guardando queste cose perché tra l'altro poi questo povero brianzolo insomma si danno alla vita il milanese mi risulta che invece il paradiso se lo compra a brava si ti riferisci all'ultimo video che ho fatto due giorni fa beh il paragone con milano è affascinante io ho vissuto a milano sette anni sono stato bene e infatti qui tradisco la mia parte siciliana perché il brianzolo vero a milano osti quando va giù a milano non ci va neanche volentieri quando va sembra che sta partendo per il vietnam è peggio beh milano vabbè parliamo di due mondi diversi che sono gli opposti proprio perché uno è paesano l'altro è di milano uno è contadino l'altro è cittadino no se pensiamo che milano però non a caso la brianza e milano siccome sono molto vicini perché milano è la più grande città la più importante più europea che abbiamo dopo la capitale e la brianza io credo che non a caso sia comunque così operosa e così però ecco è il contadino e il brianzolo è proprio la periferia e i contadini da lì arriviamo no addirittura si dice che la cassola sia sia l'avanzo del maiale che usava il contadino brianzolo il milanese si prendeva le parti più buone ecco che il milanese è il brillante che è ricco non te lo fa pesare secondo me perché il vero signore non te lo fa pesare ma un tenore di vita molto alto brianzolo il contrario brianzolo vive da povero anche se è ricco capisci mette via mette via mette via vive sempre una vita di basso profilo il milanese è un altro mondo il brianzolo lavora per il gusto di lavorare il brianzolo lavora il milanese lavora per fatturare capisci la grande differenza e poi i soldi che in cassa li usa per viaggiare fare il brianzolo invece li tiene libero tranquillo che due mondi vicini ma lontani ma davvero molto lontani senti corrado siamo quasi ai saluti ma che cosa ti aspetti da questo libro nel senso i brianzoli che sicuramente l'hanno letto e lo leggeranno secondo te che cosa che cosa penseranno faranno un po di autocritica invece si troveranno perfettamente vorranno cambiare un po che cosa succederà secondo te guarda le pree ho già ho già fatto tante presentazioni quindi ho avuto la fortuna la possibilità di incontrare chi lo legge il classico è comprarlo per lo zio il padre che secondo i figli nipoti le mogli sono gravemente malati di brianzolismo devo dire che i feedback che ho si ritrovano in quello che in quello che dico perché ho scritto proprio tutto non dico il peggio tutto quello che infatti dicevo se ti ritrovi al cento per cento è grave ecco è bello quando vedo che la gente non vede l'ora di regalarlo a a il componente della famiglia che reputa più gravemente malato di brianzolismo quindi come dire un po una terapia vediamo se può funzionare in questo senso mi dicono che si ritrovano però nessuno contesta i dieci comandamenti progetti dopo i dieci comandamenti si va in paradiso quindi ci sarà una guida per il brianzolo che ci va che cosa farai progetti come mi insegna il brianzolo continuare a lavorare video e promozione del libro e portare se mi sarà concesso mi piacerebbe portare girare un po uscire dalla brianza ma portare i valori brianzoli anche oltre i confini bene quindi siamo siamo qua ad aspettare i risultati di questo viaggio oltre confine di corrado dugo grazie per essere stato con noi davvero e grazie anche a voi rimanete lì come ogni sera tra pochi minuti la linea ai colleghi dell'informazione grazie a tutti